Dopo la parentesi negli Stati Uniti, Paul Ebois torna alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il ventenne camerunense è sbarcato oggi in Italia e dopo la trafila di quattro tamponi previsti si aggregherà al gruppo di Repegia. Un ingaggio che va a rinforzare una VL che sabato sera alla Vitri Frigorena ha perso 70-75 contro la Virtus Bologna incappando nella terza sconfitta consecutiva. La partita lì è girata un pochino per il nervosismo, però anche prima siamo stati bravi a rimanere sempre in partita, non abbiamo mai mollato soprattutto in difesa nonostante in attacco costruendo anche buoni tiri non abbiamo avuto buoni percentuali. Da lì abbiamo dato qualcosa ancora in più, la zona ci è stata molto utile, li ha messi molto in difficoltà e poi alla fine un paio di errori ci sono costati a Cocari. Possiamo essere stati bravi sicuramente in difesa come approccio alla partita, come mentalità, tutti sono stati molto aggressivi ed è il motivo per cui siamo riusciti a rimanere in partita fino all'ultimo pur non avendo percentuali di tiro buoni in attacco. Può succedere, può succedere di non fare canestro, ci succede magari già da un paio di partite, da tre partite, probabilmente la pausa ancora la sentiamo un pochino addosso, però ripeto se la squadra difende, se la squadra costruisce tiri, comunque è già un passettino in avanti, poi penso che anestro l'ha sempre fatto e torneremo a farlo. Anche se si poteva portare in porto diversamente questa partita, però ovviamente è il merito di Pesaro che è riuscita a tornare dopo il nostro buonissimo inizio, dopo la nostra buonissima difesa nel primi due quarti. Il piano partita era di pareggiare la loro velocità, difendere il loro gioco in transizione dove sono bravissimi, con i giocatori che hanno un trattamento di palone veramente eccezionale e con i loro tantissimi handoff e velocità ci potevano mettere in difficoltà. Comunque siamo riusciti a tirarla su, molto importante per noi, sono molto contento per la vittoria. Sconfitte anche nel calcio per Vispesaro e Alma Juventus-Fano che ora sono attese al confronto diretto nel derby Fanovis previsto domenica 28 marzo alle 15 allo Stadio Mancini. Sconfitte diverse, il Fano a Verona si illude chiudendo il primo tempo in vantaggio dopo aver beneficiato di un autorete per poi crollare 3-1 nel secondo tempo con la Virtus Vecomp. Fano, ora terz'ultimo a sei punti dalla salvezza, contrassegnata dalla Vispesaro, caduta con onore al cospetto della capolista Padova che al Benelli soffre nel primo tempo per poi vincere il match nella ripresa con le reti dei subentrati Nicastro e Kresic. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto passare in vantaggio, poi l'equilibrio è stato spezzato dal gran gol di Nicastro che ha nel suo repertorio e ha cambiato un po' le sorti di questa partita, però abbiamo fatto un'altra buona prestazione contro una squadra forte e importante e adesso dobbiamo concentrarci appunto da martedì sulla partita importante per noi qual è il derby col Fano. Sapevamo che era una partita difficile contro la prima della classe, però abbiamo fatto la nostra partita, la prestazione c'è stata, poi un pezzo di bravura loro, hanno trovato l'1-0 e poi ci siamo abbassati nel secondo gol, siamo stati sfortunati perché secondo me abbiamo preso due stangate, la prima perché è uscito Strama e subito dopo in 10 abbiamo preso il secondo gol e siamo rimasti in 10. Se Strama fosse rimasta in campo può darsi che neanche prendavamo il secondo gol e ce la giocavamo fino alla fine. Continua a vincere e convincere l'Ital Service che con la Cybertel Aniene conquista l'undicesimo successo consecutivo e mantiene la vetta della massima serie di calcio a 5 a più 3 sull'Acqua e Sapone. Contro Aniene ha decidere il match del Palanino-Pizza, le reti di De Oliveira, Canal, Onorio e la doppietta di Borruto.